ben ritrovati di nuovo su review oggi vado a recensire insieme a voi questo kit di cacciaviti 25 in totale diversi cacciaviti che vi permettono di andare a rimuovere viti più disparate possibili ma soprattutto viti speciali che si trovano solitamente ad esempio nei portatili non lo portati di apple oppure nei hard disk nel mio caso l'ho acquistato perché mi serviva una punta T6 che appunto non era facile da trovare una torx nello specifico quindi per non andare a comprare il cacciavite specifico che costava ovviamente tanto ho preferito prendere questo kit da 7 euro link in descrizione di amazon e è veramente utile e funzionale vi spiego com'è allora arriva all'interno di questa confezione veramente piccola guardate sta in mano quindi il pelle si apre col bottoncino e all'interno trovate tutte le punte come vedete ci sono tutte le punte poi ovviamente adesso non sto qui ad elencarvele però se andate sulla pagina del venditore con il link in descrizione riuscite a vedere proprio tutte le punte quindi si possono rimuovere veramente tanti viti che solitamente i cacciaviti in commercio normali non si trovano qua abbiamo la parte dove poi si va a inserire adesso facciamo una prova così vi faccio vedere vediamo questo ad esempio lo tiriamo in alto quindi anche bella questa cosa che non cadono restano qua ed è facile anche montarli si va a mettere all'interno e poi si va una volta che all'interno a girare così adesso potrete andare a svitare e questo ruota anche quindi è veramente comodo una volta che avete finito non andate a rimuovere c'è anche una calamita all'interno tra l'altro per tenerlo fermo andate a rimuoverle e poi lo rimettete qui vado a richiudere ed è fatto quindi devo dire che è veramente un kit da avere a un prezzo veramente irrisorio e le punte sono di qualità leggevo qualche recensione sulla stessa pagina del venditore che diceva che le punte non erano il massimo vi dico la verità io comprandolo per smontare aprire il mio hard disk non ha avuto problemi lo svitate subito senza problemi e ritengo che le punte siano davvero valide quindi vi consiglio l'acquisto se avete domanda non esitate a pormele e quindi vi consiglio l'acquisto se avete domanda non esitate a pormele che ci sono